Pulsano dovrà fare a meno, almeno per i prossimi 20 giorni, della sua guida. Il sindaco Francesco Lupoli si sarebbe dimesso. 20 giorni ancora per riflettere sulla sua decisione ed eventualmente ripensarci. Intanto Lupoli, eletto nel 2018 con la lista Insieme, avrebbe presentato le sue dimissioni in un momento in cui il comune di Pulsano sembrerebbe travolto da una bufera giudiziaria. A seguito di indagini eseguite da organi competenti sarebbero emerse delle irregolarità nello svolgimento di concorsi pubblici e gare d'appalto che al momento però sarebbero tutte da dimostrare. Il sindaco di Missionario non ha ancora al momento commentato la sua decisione né fornito giustificazioni e quindi la cittadina, a forte vocazione turistica, dovrà attendere i prossimi 20 giorni per conoscere la sua sorte.